Test medicina 2022 news simulazioni test medicina borse di studio e agevolazioni per chi si iscrive all'università come si calcola ise universitario immatricolazioni barra verticale calcolo tasse universitarie come calcolare il voto di laurea abolizione numero chiuso il comunicato riguardante il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio dal 2019 al 2012 discusso dal consiglio dei ministri parla chiaro dal prossimo anno gli aspiranti medici potrebbero dover dire addio al tanto temuto test di medicina che già da anni i governi di ogni parte politica dichiarano di voler abolire ma il governo dopo che la notizia ha iniziato a circolare ha fatto dietro front primo un comunicato congiunto del miure del ministero della sanità che parla non di abolizione ma di ampliamento delle borse di studio poi la smentita ufficiale del governo che come riporta il corriere dichiara in merito al superamento del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina la presidenza del consiglio precisa che si tratta di un obiettivo politico di medio periodo per il quale si avvierà un confronto tecnico con i ministeri competenti e la conferenza dei rettori delle università italiane che potrà prevedere un percorso graduale ed aumento dei posti disponibili fino al superamento del numero chiuso periodicamente le voci riguardo a una possibile abolizione del numero chiuso si fanno sentire ma se fino a qualche mese fa l'attenzione era tutto sommato bassa da oggi le facoltà di medicina di tutta italia sono in allerta oltre a queste ovviamente anche quelle europee che presto inizieranno a guardare con estremo interesse e probabilmente un po di preoccupazione a questo cambiamento epocale perché facoltà di medicina senza test d'ingresso il numero degli studenti italiani che ogni anno lasciano la penisola per andare a studiare medicina all'estero in lingua inglese italiano più raramente nella lingua del luogo in spagna francia romania albania bulgaria cresce ogni anno di più al punto che per questi paesi concedere agli studenti italiani in fuga dal test la possibilità di frequentare la facoltà di medicina o quella di odontoiatria e portare a termine la loro formazione è diventato un vero e proprio business che gli aspiranti camici bianchi sono disposti a pagare a caro prezzo in termini di tasse vitto alloggio e naturalmente lontananza dagli affetti che cosa accadrà alle facoltà di medicina all'estero se si andrà nella direzione di un'abolizione del numero chiuso in italia in verità dipende molto da come verrà attuato il cambiamento nelle facoltà italiane al momento le ragioni che hanno spinto i governi precedenti a non considerare l'abolizione del numero chiuso sono sostanzialmente 2 l'impossibilità per le facoltà di accogliere fisicamente in termini di spazio e qualità dei corsi la grande quantità di studenti che ogni anno fanno richiesta di accesso a medicina la mancanza di borse per coprire i costi dei percorsi di specializzazione post lauream senza i quali la professione medica non può essere esercitata la probabilità maggiore è che se non si introdurrà un test al secondo anno sulla scia del modello francese per sopperire alle mancanze strutturali le facoltà dovranno introdurre un numero chiuso locale ma tutto resta solo un'ipotesi perché al momento mancano notizie più certe studiare medicina all'estero dal momento che sembra irrealistico che nel giro di poco tempo le facoltà riescano a dotarsi di spazi e docenti sufficienti per contenere un'affluenza così massiccia degli studenti le possibilità che coinvolgono le facoltà di medicina e odantoiatria all'estero sono 3 le facoltà di medicina all'estero potrebbero restare un'opzione assolutamente valida per chi desidera essere seguito con maggior attenzione nel corso della sua formazione approfittando di un minor numero di studenti e laddove tali di strutture all'avanguardia potrebbero aggiungersi a questo numero di studenti per la stessa ragione altri che prima non sarebbero partiti ma che ora trovano difficoltà nel seguire i corsi e dare esami a causa del sovraffollamento prodotto dell'assenza del numero chiuso tutti quegli studenti partiti per l'estero a causa del test d'ingresso ma che negli anni successivi al primo chiedevano di poter tornare in italia mediante trasferimento potrebbero a questo punto decidere di non partire del tutto restando in italia fin dal primo anno l'ipotesi quindi è che l'utenza delle facoltà di medicina all'estero non si abbatterà ma andrà semplicemente modificandosi nel tempo magari specializzandosi ulteriormente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti